Ben trovati, continuano i nostri itinerari in giro per l'Italia, oggi ci troviamo a Livigno. Come potete vedere anche alle mie spalle, molti sono i turisti che sono arrivati in questi giorni a Livigno per le vacanze, c'è molta attenzione al distanziamento sociale e molti usano le mascherine anche all'aperto. Tanti turisti, dicevamo, ma anche tanti atleti che si allenano in attesa delle gare ufficiali. Sentiamo ora il parere di alcuni operatori turistici. Bene, ci troviamo all'Hotel Flora in centro di Livigno, siamo con Camilla Cusini che è la responsabile del ricevimento. Buongiorno Camilla, avete riaperto o è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno? Sì, allora qualche cosina sicuramente è cambiata rispetto all'anno prima, dovuto a questa situazione appunto del Covid-19, sono cambiate prettamente il sistema in cui ci giriamo qua all'interno della struttura, quindi a livello preventivo di sanificazione. È cambiato ogni volta che abbiamo un check-in diverso, distanziamento, ovviamente noi come anche dal cliente c'è l'aspettativa dell'utilizzo delle mascherine, dei guanti appunto se necessario e se ci sono qualche scambio di documento in maniera diretta. Benissimo, i nuovi clienti da dove arrivano principalmente quest'anno? Quest'anno sono principalmente clienti italiani. Siamo con Mirko Gormolini qui a Livigno, buongiorno Mirko, allora quest'anno è iniziato un'estate un po' diversa dal solito. Sì, siamo ripartiti, il bello è questo, quindi ci siamo ancora, siamo riaperti qua a Livigno in una situazione un po' diversa dalle solite estati. Cos'è cambiato rispetto agli altri anni normalmente? Ma soprattutto la prevenzione che abbiamo verso il cliente, quindi tutta la struttura è stata sanificata e abbiamo tutte le precauzioni per accogliere i nostri ospiti in sicurezza. L'hotel Flora ha riaperto, vi aspettiamo a Livigno. L'hotel meeting è aperto, vi aspettiamo a Livigno. L'hotel Laniela è aperto, vi aspettiamo a Livigno. L'hotel Garnio Asi è aperto, vi aspettiamo a Livigno. Quel goccino di latte di cervo, pronti signore? Grazie. Salute! Vi aspettiamo a Livigno. 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 Grazie a tutti.